Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mi chiamo Mattia Gagliani per Muslimun Muhammad Al-Amin Vengo da Italia e sono molto felice di passare il mio quarto Ramadan qui a Tarim in Dar al-Mustafa con tutti i nostri fratelli musulmani Ramadan è un mese importante in cui ricordiamo Allah sbana wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wa sallam Stiamo tutti insieme nel ricordo di Allah sbana wa ta'ala con il grandissimo dono che ci ha fatto del Karim Kur'an Ramadan, Umm Wa Itada